Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects Nelle scorse lezioni abbiamo imparato come inserire del testo, come creare delle forme geometriche semplici in After Effects come utilizzare le maschere di livello per mascherare, nascondere quello che vogliamo nascondere quello che vogliamo non far vedere al nostro pubblico e abbiamo visto come animare le varie proprietà dei vari livelli di After Effects quest'oggi facciamo un piccolo esercizio mettiamo tutto insieme per vedere praticamente a cosa serve creare del testo, creare delle forme geometriche, creare delle maschere di livello e animarle in realtà è facile comprenderlo quello che noi faremo è creare un semplice sottopancia come questo che entrerà nel nostro schermo, eccolo qui e uscirà quando chiaramente è stato letto dal nostro pubblico lo faremo utilizzando sia i keyframe sia utilizzando le maschere di livello prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'articolo dedicato a questa lezione oltre all'indice con tutte le lezioni fatte fino ad ora c'è anche il corso introduttivo a Premiere Pro se volete imparare a montare con quel bellissimo software firmato Adobe un corso introduttivo quindi se siete già molto esperti non è forse il corso che fa per voi ma se siete alle prime armi è l'ideale secondo me iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i live stiamo andando in diretta ogni tanto la sera permettendo a tutti di fare domande quindi se volete partecipare iscrivetevi e accendete le notifiche soprattutto così sapete sempre quando c'è una diretta live in corso e teniamoci aggiornati tutte le notizie comunque vengono pubblicate anche sulla pagina Facebook Fabio Ambrosi mettete un like e restiamo in contatto bene, veniamo alla lezione di oggi diciamo, dicevamo, mettiamo insieme tutto quello che abbiamo appreso nelle lezioni precedenti per creare un semplice sottopancia iniziamo da zero quindi pulisco tutto composizione o meglio progetto vuoto, pulito cancelliamo anche la via quello che non serve quindi la finestra delle social graphics che non utilizzeremo in questa lezione creiamo subito una nuova composizione chiamiamola sottopancia per dare un nome che a noi sia familiare che possiamo riconoscere facilmente vogliamo creare una composizione in full HD quindi 1920x1080 25 fotogrammi al secondo la composizione deve durare 12 secondi ma può durare il tempo che volete o meglio il tempo che vi serve ricordo, come abbiamo visto in passato che le composizioni in After Effects devono avere una durata specifica ok? quindi possiamo allungarla se vogliamo in un secondo momento ma non è come Premiere che potete creare una timeline infinita ecco in After Effects le composizioni sono sempre finite clicchiamo su ok e abbiamo creato la composizione iniziamo col creare i primi due box che ospiteranno il testo del sottopancia vogliamo creare un sottopancia con il nome e cognome e la qualifica del nostro intervistato per esempio bene iniziamo dicevo creando le forme geometriche che saranno i nostri box contenitore quindi clicco sullo strumento rettangolo disegno il primo rettangolo che ospiterà la scritta nome e cognome fantastico posso cambiare il colore facciamolo giallo via per variare avete visto prima la stessa cosa in rosso facciamolo giallo magari leggermente più scuro anzi no più che giallo facciamo l'arancione via che ci piace di più eccolo qua il nostro box che ospiterà la scritta nome e cognome voglio creare un altro box identico che però ospite la scritta qualifica quindi non so Mario Rossi dottore ok per fare prima invece che disegnarne uno da capo posso selezionare il livello forma già creato premere i tasti sulla tastiera ctrl d e duplicare quindi ho esattamente due livelli uno sopra l'altro torno in modalità selezione importante quindi il puntatore è nuovamente una freccia sposto uno dei due livelli un pochettino sulla destra e un pochettino in basso così per esempio posso cambiare ovviamente il colore anche al secondo box invece di farlo arancione lo facciamo bianco magari lo facciamo un pochettino più piccolino per differenziarlo quindi faccio doppio click sul bordo di questo di questo rettangolo appena creato e lo vado magari a rimpicciolire un pochino a farlo anche un pochettino più corto eccolo qua questo boxettino qui ospiterà la qualifica della persona che stiamo intervistando fantastico abbiamo creato due rettangoli due semplici forme geometriche ricordate che nel nel pannello dei livelli il pannello soprattutto è il pannello ovviamente che va a coprire quello che c'è sotto quindi in questo caso il pannello della qualifica copre il pannello del nome e cognome a proposito nominiamo le cose in maniera che siano chiare questo è il box del nome e del cognome quindi chiamiamolo box nome e quest'altro sopra eccolo qui è il box della qualifica quindi box qualifica per rinominare i livelli seleziono il livello e premo il tasto enter sulla tastiera entro in modalità di scrittura nomino il livello come voglio e a questo punto clicco fuori il livello è rinominato perfetto creiamo a questo punto del testo quindi strumento testo tasto di scelta rapida ctrl t clicco per esempio sopra al box del nome scrivo non so fabio ambrosi fabio ambrosi torno in modalità selezione clicco due volte sopra al livello testo appena creato così che io possa selezionare non colpo solo il testo cambiare il colore cambiare il font posso farlo un pochettino più grande per esempio posso cambiare un po' di proprietà relativa al testo torno in modalità selezione e riposiziono questo testo in maniera un pochettino più centrale fantastico facciamo la stessa cosa con la qualifica quindi io seleziono il testo nome e cognome eccolo qui ctrl d sulla tastiera sposto il secondo testo appena creato vicino o sopra al box della qualifica ovviamente faccio doppio clic sul livello appena creato o meglio appena duplicato per cambiare il colore perché ovviamente bianco su bianco sarà difficile da leggere lo facciamo nero facciamo anche un pochettino più piccolino cosa dite lo rimpiccioliamo e lo chiamo non so editor quindi scrivo editor fantastico lo centriamo un pochettino torniamo in modalità selezione e centro un pochettino ecco qua abbiamo creato un semplice sottopancia statico nome e cognome e qualifica ok magari se vogliamo essere pignoli la qualifica possiamo farla invece che bold black possiamo farla regular in maniera che sia un pochettino più sottile ecco qua ok magari abbiamo differenziato un pochettino il nome il cognome e la qualifica bene nel prossimo capitolo nella prossima lezione animeremo quindi inseriremo i keyframe per animare questo semplice sottopancia statico creato con after effect con il testo con i livelli forma e con gli strumenti che abbiamo imparato ad utilizzare in questa prima parte del corso introduttivo ad after effect www.fabbiambrosi.it c'è l'articolo di questa lezione oltre all'indice con gli argomenti del corso iscrivetevi a questo canale youtube ci sono molti live in programma quindi per ricevere le notifiche iscrivetevi al canale e accendete le notifiche e venite a trovarmi su facebook come sempre la pagina da cliccare è sempre quella fabio ambrosi al prossimo video tutorial ciao